dunque come promesso riprendiamo la nostra architettura prendiamo tutti questi oggettini che abbiamo fatto prima vedete che siamo arrivati adesso lasciamo perdere le tre texture siamo arrivati a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocchi per definire la nostra struttura ora quando la nostra node editor comincia a diventare un pochino complicato può essere utile fare un test cioè cosa esce da ogni node questa struttura è molto elegante perché permette di definire attraverso una struttura un grafo, un albero dove dice esattamente come le varie oggetti producono certi effetti vengono miscelati in qualche modo insieme e arrivano a produrre finalmente il risultato che è la nostra superficie come la vogliamo esiste una cosa molto interessante che è presente nei vostri un addon presente ma disabilitato che permette node wrangler si chiama il node wrangler è un sistema che dà diversi aiuti ma fondamentalmente dà un ctrl shift click quindi noi possiamo premere fondamentalmente un ctrl shift click mentre siamo su un nodo e vedere qual è il quindi noi siamo qua su questo nodo se noi facciamo ctrl shift click vedete che ci fa vedere esattamente cosa genera quel quell'immagine quell'immagine quel nodo e ce la fa vedere sul nostro oggetto quindi vedete che questa è l'immagine qua se non ci ricordiamo che cosa produce basta che facciamo ctrl shift click avendo abilitato il questo node wrangler e lui ci fa vedere che questa è la texture originale bello se noi facciamo ctrl shift click su questo vediamo che questa è una normal map che pur essendo gialla quindi sono dei colori in realtà non è per niente per nulla realistica quindi non può essere visualizzato direttamente e deve essere convertita in un qualche modo quindi deve diventare in questo caso la normal map e ce la dobbiamo poi giostrare l'image texture questa invece vedete che ci dà la height map che noi usiamo anche per indicare dove abbiamo le zone queste zone che luccitano sono poi quelle che andranno a produrre le riflessioni quindi noi possiamo man mano andare giù quindi vedere questa immagine adesso vedete questo filo è quello che ci permette di vederlo che ha creato l'add-on ma in realtà noi partiamo per esempio da questo che riflette se arriviamo qua facciamo ctrl shift click qua vedete che vediamo il contributo che ci viene dato sia dall'immagine vedete questa che è la riflessione ma anche dalla normal map che è stata ottenuta da lei più l'altra normal map quindi abbiamo visto fondamentalmente cioè vediamo praticamente qual è l'impatto di questo di questi due e poi questi verranno miscelati con la diffuse vedete che questa qua praticamente cosa abbiamo ctrl shift questo e la nostra diffuse originale vedete che è abbastanza neutra se noi arriviamo qua ecco vedete che qua già diventa interessante perché ci vede che questa è la diffuse a cui è stato associato diciamo tutto l'impianto queste due qua che sono arrivate qua quindi questo senza diciamo il quest'ultimo mixing e se arriviamo qua vediamo in pratica il risultato finale quindi noi possiamo vedere qual è il risultato di passare da questo a questo vedete che la differenza per esempio tra questa diffuse e questa che è la diffuse più la glossy è che ci sono certe zone che appaiono un po' più riflettenti e che quindi diventano più realistiche no? questo è il senso di questo debug quindi in ultima analisi poi possiamo vedere l'uscita questo piccolo trucco secondo me aiuta anche un po' a capire tutte le componenti in gioco ora avevo detto che in realtà c'è questa struttura che magari la semplifichiamo leggermente visto che tanto la abbiamo detto che mettiamo la hate così ok quindi qui avete che viene abbastanza simile anche senza la conversione all'RGB in bianco e nero quindi l'effetto è accettabile ma il problema qua è uno che non abbiamo forti possibilità di controllare il glossy cioè il glossy in sintesi non sappiamo cioè qui c'è una ruvidità che non è proprio quello che vogliamo cioè ci permette di controllare la ruvidità generale di tutta l'impalcatura vedete che si ottengono anche degli effetti interessanti ma sono globali quindi con la ruvidità 0,20,5 otteniamo il modo in cui riflette ma esattamente quanto riflette la potremmo ottenere in realtà mettendo in sintesi questa come fattore allora dicevo nel frattempo guardate cosa vuol dire Wrangler Wrangler è il mandriano cioè colui che tiene sotto controllo le mucche cioè insomma un branco di nodi disciplinati e che consente di vedere un po' che cosa fanno però dicevo oltre a questo questo strumento che abbiamo visto che è anche interessante ho visto che alcuni usano anche un altro modo di miscelare i glossy che è leggermente diverso ma che consente fondamentalmente di introdurre un mixer di colore quindi add color mixer RGB in cui si unisce sostanzialmente un colore scuro che cerca di combinarsi con il colore del nostro quindi qui per dire questo qui abbiamo visto che possiamo fare ctrl shift questo vedete che possiamo vedere come diventa quindi se lo misceliamo verso destra vedete che aumentiamo cioè facciamo tale che la parte riflettente sia più o meno grande o più o meno piccola quindi questo permette in sintesi di controllare il nostro oggetto e di usare questo sostanzialmente come fattore del mix shader vedete che facendo in questo modo si ottiene un mestiere simile al precedente dove invece il colore veniva miscelato direttamente nel glossy ma è leggermente più facile gestire per controllare la quantità di riflessione che volete quindi qui possiamo controllare il mixaggio cioè di quanto è più o meno pronunciato tornando un attimino indietro quindi qui sulla normal map abbiamo visto quindi qua che possiamo controllare quanto influisce la la height map vedete così vedete che 0,1 influisce un sacco la height map e questo qui invece controlla quanto influisce la normal map quindi se noi da 1,0 gli mettiamo 0 così e 0 dovremmo ridurre la cosa quindi abbiamo solo l'elemento riflettente ma noi possiamo mettere 1 vedete che aumenta e 0,01 per avere tutti questi particolari ok ora vedremo poi che tutte queste cose quindi ricontiamo un po' i nodi quanti sono sono tutti questi adesso li vedremo nei prossimi video in strutture ancora più complesse ma in realtà si ripeterà sempre lo stesso fenomeno quindi se noi vogliamo appunto gestire questa mandria di mucca insomma in un modo buono dovremmo dire che questo 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 e questo quindi selezioniamo tutti i nodi che vanno a comporre diciamo la nostra che ci generano la fusione delle nostre quattro immagini vedete che noi abbiamo una due tre e quattro quindi quattro immagini che entrano dentro questo insieme di blocchi e ti generano il nostro shader finale no e qui possiamo usare il ctrl g che ci permette di mettere insieme queste informazioni vedete che qui ci dice che entriamo con tre colori più una hate map e usciamo con lo shadow e qui possiamo anche dare un nome a il nostro oggetto e lo chiamiamo come lo possiamo chiamare questo qui cosa fa mette insieme quindi un ma chiamiamolo mandriano per il momento mandriano sarà lui il nodo mandriano non so comunque noi vediamo che questo qua il primo nodo questo qua che vedete che questo qui colore è quello che va alla diffuse e quindi gli possiamo dare invece che colore mettiamo diffuse ok vedete che l'ha chiamato diffuse il secondo nodo abbiamo visto che va sul credo che sia la normal map se non vado errato infatti vedete che è questo che va verso la normal map e quindi questo qui sarebbe proprio la normal map quindi mettiamo normal map ok poi abbiamo la hate map che è questa e quindi hate map va bene hate map e poi infine abbiamo l'ultimo pezzo che è il colore e lo chiamiamo specular map ok allora a questo punto noi abbiamo fatto sostanzialmente un super nodo che dato una diffusa una normal una hate una specular genera uno shader che è quello che ci interessa a questo punto applichiamo una magia facciamo tab e vediamo che la nostra struttura diventa leggermente più semplice nel senso è come se avessimo un super nodo questo che si chiama node group ah l'abbiamo chiamato male quindi questo qua si chiama node group qua ma in realtà qui la chiamiamo vabbè chiamiamolo diciamo mandriano per il momento ecco nodo mandriano ok questo qui è lui e ci permetterà di fondere delle immagini insieme quindi in futuro in teoria potremo salvarci questa informazione e poi dargli semplicemente le immagini da cui parte